salve a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale eccoci qua in un nuovo video questo video riguarda una ricostruzione una ricostruzione per il suo diciottesimo come vedete le unghie sono abbastanza rovinate perché si è tolta praticamente tutto il prodotto precedente e anche le sue unghie naturali quindi abbiamo optato per questa ricostruzione molto semplice perché andremo ad effettuare una french struttura elegante appunto per questo evento e al termine andremo ad applicare soltanto qualche strass giusto per impreziosirla un po allora come vedete io sono andata a sollevare prima la cuticola dopodiché sono andata ad opacizzare la lamina ungueale con la lima di grana 100 180 vi mostrerò tutti i passaggi soltanto sul dito indice di questa mano e dopo aver opacizzato la mia unghia appunto vado con quella prima puntina a sollevarmi ancora meglio la tasca cuticolare e con questa qui vado come vedete a rimuovere bene bene tutti i residui di pelle attaccate all'unghia anche quelli un po più sotto cuticola e poi passo successivamente con la rimozione dopodiché vado con l'applicazione del nel prep del primer acid free e adesso sto applicando uno strato sottile di base rubber della linea mantra in questo caso trasparente mi trovo molto molto bene con questa base e la utilizzo anche per il sin permanente rinforzato adesso con la mia nel form queste qui in alluminio che trovate sempre sul sito di b nel poi dopo giù vi taggo come sempre tutti i prodotti che utilizzo nel video vado a posizionarla sulla mia unghietta come vedete aderisce bene a quest'unghietta qui non c'è stato bisogno di dover effettuare ulteriori tagli quindi vado a fare soltanto i miei taglietti laterali e vado poi a posizionarmela per bene e a chiuderla la vado a chiudere fino al numero 7 l'allungamento andrò a farlo fino al numero 8 andremo a realizzare una mandorla con una french in struttura bianca per l'allungamento vado ad utilizzare l'acrigel clear e vado a fare un allungamento super super sottile ho scelto di allungare prima con l'acrigel clear perché poi spesso me le chiedete queste cose perché dato che è una french in struttura quando poi verrà a refill non dovremo andare a tagliare tutte le unghie per eliminare appunto la french quindi vado a ricrearmi questo stato sottile di acrigel trasparente e andare anche la forma del mio allungamento e successivamente sopra poi andremo a realizzare la french bianca mando in lampada 15 secondi perché questo qui è l'acrigel e dopo 15 secondi metto la mia pinzetta dopodiché faccio terminare la polimerizzazione altri 60 secondi rimuovo la pinzetta e rimuovo anche la nail form mi raccomando attenzione a questo passaggio potete anche lasciarla per tutta la durata della ricostruzione se non siete sicure perché essendo un allungamento super super sottile rischierete poi di spezzarlo quindi fate molta attenzione nella rimozione dell'anel form come vedete sono andata a prendere una prima pallina di prodotto e sono andata a ricrearmi la forma del mio muretto per il muretto abbiamo scelto la colorazione fard l'acrigel fard sempre di be nail perché appunto piaceva questa colorazione naturale e dopo aver mandato il muretto 60 secondi in lampada vado con un'altra pallina di prodotto e vado a terminare la struttura sempre del mio muretto e dopodiché mando in lampada altri 60 secondi per far polimerizzare il prodotto dopodiché vado a sgrassare bene bene e comincio a sistemarmi il mio muretto vedete vado a limare dalla parte piatta della mia lima in modo che sono sicura che limo ben dritto la parte di sotto del muretto per definirla bene perché se non definite bene appunto questa parte qui già quando andate ad applicare l'acrigel dovete rifinirla molto bene altrimenti poi la nostra french non verrà perfettamente come vedete io tutti i passaggi che vi sto mostrando non sono andata a velocizzarli ve li ho lasciati la velocità normale appunto anche perché vi ho tagliato i passaggi delle altre unghiette quindi questi passaggi che vi ho lasciato non li ho velocizzati dopo aver rifinito appunto il mio muretto sono andata a limare un pochettino la parte di sopra ma soltanto per vedere se appunto il mio muretto fosse bello perfetto bello dritto insomma poi il resto lo andremo a rimare successivamente quando limeremo poi tutto il resto della struttura dopodiché vado a prendere l'acrigel bianco in questo caso abbiamo scelto di utilizzare l'acrigel pastello sempre di binil e con l'acrigel pastello vado vedete sul resto dell'allungamento a ricreare appunto la mia french non fa niente ragazze se il prodotto il bianco insomma va sul muretto perché poi in fase di limatura si aggiusta il tutto quindi vado a posizionarmi bene bene il bianco dappertutto e mando in lampada a polimerizzare 60 secondi dopodiché vado ovviamente a sgrassare e vado a terminare appunto la rifinitura della mia struttura solitamente questo passaggio lo faccio con la punta fresa in questo caso sono andata a farlo con la lima vabbè che non ho dovuto comunque limare tanto come vedete io do sempre prima la forma alla mia unghietta dopodiché vado a limare il giro cuticole e laterali superiori dopodiché vado a sistemarmi tutta la struttura vedete in punta dove appunto c'è il muretto e la mia french bianca vado a limare bene bene questa parte qui io questa parte qui vado a limarla con la parte della lima meno abrasiva ossia la grana 180 perché appunto limo un pezzetto per volta e vado sempre a controllare in modo tale che non rischio di poter limare poi troppo prodotto e rovinare appunto il lavoro dopo aver rimanato insomma tutta la parte di sopra vado poi a limare i laterali di sotto vedete e termino dando aggiustando insomma la mia forma la forma mandorla abbiamo fatto questa mandorla cioè ho deciso di fare questa mandorla però con la tecnica appunto l'ho realizzata con la bombatura classica e non in balance point adesso vi mostro anche la curva c che è venuto a fuori guardate qui che bella questa curva c e dopo aver spolverato bene l'eccesso di polvere vado con quest'altra puntina a rifinire un po il prodotto in eccesso nel giro cuticole mi raccomando fate attenzione non dovete andare con questa punta sull'unghia naturale e non dovete toccare la pelle le cuticole perché appunto non è una punta diamantata e vado poi successivamente a rimuovere eventuali residui di cuticola vado con un po di base clear sempre la base rubber della linea mantra e vado a posizionare gli strass sulle unghie la cliente ha scelto di applicare questi tre strass e dopo averli polimerizzati in lampada vado a sigillare il tutto dato che erano soltanto tre strass un pochettino sparsi per l'unghia e poi la ragazza ha il vizio di mangiarsi le unghie mettersi le mani in bocca per evitare appunto che torni a refill senza strass sulle unghie ho deciso poi di sigillare il tutto sgrasso perché questo prodotto è un prodotto con dispersione sono andata ad applicare l'olio per cuticole questo qui è il risultato finale guardate che bella corpacci e che bella french in struttura molto semplice ed elegante lì purtroppo aveva una cuticola già mangiata quindi è sanguinato un spettino però questo qui è il risultato finale spero che vi sia piaciuto se così lasciate un like ci vediamo presto per tanti altri video